E psicosi da coronavirus. In Abruzzo finora nessun caso di contagio. I sospettati sono risultati tutti negativi, ma lo spettro della paura si aggira per la regione. Molti supermercati sono razziati di beni alimentari e prodotti disinfettanti e le farmacie sono ormai a corto di mascherine. Nonostante il covid-19 abbia un'incidenza di morte che si attesta intorno al 2%, perfino la chiesa ha modificato le sue secolari tradizioni. Dalla conferenza episcopale sono giunte indicazioni affinché si svuotino le acqua santiere, così da impedirne l'utilizzo. Nella messa inoltre è bandita la stretta di mano tra i fedeli in segno di pace e la comunione sarà distribuita solamente sulle mani e non direttamente in bocca. Ma non solo, università e tribunali sospendono le attività e le ripercussioni più preoccupanti sono quelle sull'economia locale. Gli eventi pubblici e le manifestazioni culturali e sportive sono sempre più sporadici, i ristoranti sempre più vuoti, negli alberghi fioccano le disdette e si teme per la prossima stagione balneare. Pur non avendo come diceva lei giustamente alcun caso di contagio anche noi ne subiamo delle conseguenze. La situazione è sicuramente di qualche disdetta già in corso con inevitabilmente restituzione della caparra per coloro che hanno mandato la caparra e la cosa che ci preoccupa un po' di più come sensazione è il fatto, no sensazione, realtà in realtà. Da una settimana circa non arrivano mail, non arrivano telefonate, insomma sembra che la prossima Pasqua ormai vicina e la prossima stagione altrettanto vicina sembra che non esistano. È come se si fosse bloccato improvvisamente qualsiasi interesse che cosa si può fare per combattere questa sensazione che ormai è diffusa. Nemmeno un cinese in Italia è risultato positivo al coronavirus ma gli asiatici sono guardati con sempre più diffidenza. Spesso in questi giorni la cronaca ha raccontato di insulti e aggressioni lungo tutta la penisola. I commercianti e ristoratori cinesi denunciano un importante crollo delle vendite e intanto un ristorante asiatico di Teramo ha chiuso i battenti dal biglietto affisso sulla Sara cinesca alla motivazione e l'emergenza sanitaria in corso. Durante il weekend invece a Montesilvano è stata danneggiata la vetrina di una sartoria gestita da cinesi. Non si è trattato di un tentativo di rapina ma di un atto di xenofobia. Finora quindi la paura sta producendo più danni del virus stesso. Nonostante i ripetuti appelli delle ASL i pronto soccorsi sono intasati da persone con i sintomi di una normale influenza che rallentano l'assistenza sanitaria per chi ne ha realmente bisogno.